Noto, reflui civili non depurati accusati di inquinamento colposo, indagati il sindaco Figura e l'ex Bonfanti. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa ha ordinato il sequestro del depuratore di Noto gestito dalla società Aspecom collegata al comune di Noto. Come riportato da un articolo odierno della Sicilia, sette persone risultano indagate, tra cui l'attuale sindaco Corrado Figura e l'ex sindaco Corrado Bonfanti, l'attuale coordinatore provinciale di Forza Italia. Entrambi sono accusati di inquinamento colposo insieme al dirigente ed ex manager della Aspecom. Le indagini condotte dai magistrati della Procura di Siracusa hanno rivelato che parte dei reflui civili di Noto sarebbe stata sversata in mare senza il trattamento adeguato. Secondo i pubblici ministeri ci sarebbero delle responsabilità nell'avere permesso questo sversamento che, se confermato, avrebbe causato un significativo danno ambientale, la cui entità è ancora da definire. Circa un anno fa la capitania di Porto di Siracusa aveva sequestrato tre depositi collegati a un impianto di depurazione di acque, reflui e calabernardo, sempre nel territorio di Noto. Anche se non direttamente collegata all'inchiesta attuale, questa operazione mette in evidenza le difficoltà nel settore della depurazione in quest'area del Siracusano. Durante i controlli ai quali hanno partecipato anche funzionari dell'ARP e del servizio spresa dell'ASP di Siracusa è emersa la violazione delle norme ambientali, poiché nei tre depositi sono stati trovati rifiuti di vari genere, compresi quelli speciali, probabilmente derivanti da manutenzione eseguita nel tempo sull'impianto, tutte senza le necessarie autorizzazioni, come sottolineano dalla capitania di Porto di Siracusa. Grazie.